Primo giorno di stagione su Destiny e primi interrogativi. Come ogni stagione abbiamo a che fare con nuovi oggetti, nuove valute, nuove cose da fare, bunker, chiavi, frammenti e tanto altro. Ed in questo video mettiamo un po' di ordine tutto quello che c'è da fare in queste prime ore della stagione dell'intrepido. Allora partiamo proprio dall'inizio della quest iniziale di Rasputin che dopo aver visto la cinematica e parlato prima con Zavala e poi con Ana Bray ci chiederà di raccogliere e generare sfere di luce. Facile come sempre, armatevi di armi protiggiate e uccidete più nemici possibili dove volete. Io sono andato su Marte nelle prime battute del protocollo come sempre dove ci sono tanti nemici da uccidere. Fatto ciò sarà il momento di andare da Rasputin che ci darà l'artefatto di questa nuova stagione che vedremo poi in un altro video se volete. A questo punto ci chiedono di visitare il primo bunker di Rasputin che troveremo alla palude. Sarà proprio di fronte allo spawn e bisognerà arrivare fino in fondo per vedere come funziona questo bunker. I bunker in totale saranno tre durante questa stagione, ci saranno questo qui sulla terra, uno sulla luna e un altro su io che si sbloccheranno nelle prossime settimane. Ma presumo che il funzionamento di questi ultimi sarà lo stesso di quello che stiamo vedendo ora sulla terra. A questo punto prendete pure qualche taglia perché ci chiederanno di fare il nuovo evento pubblico delle torri del Serafino proprio sulla terra. Questo nuovo evento non è molto complesso da capire, praticamente funziona in questo modo. C'è una torre centrale che va caricata e altre tre torri secondarie intorno ad essa. A giro ognuna di queste torri si attiverà e avrà una grande palla arancione che andrà spinta verso la torre centrale per caricarla. Per farlo dovremo usare delle cariche che la torre attiva sputerà fuori ogni tot secondi. Per velocizzare il tutto bisognerà fare attenzione che nessun nemico entri nella piattaforma della torre che sarà illuminata. Se riuscirete a mantenere la piattaforma pulita la torre farà uscire ben sei cariche, se invece ci sarà qualche nemico ne usciranno soltanto due. Queste cariche andranno sparate proprio sulla carica più grande, arancione, per farla spostare e appunto farla arrivare nella torre centrale. Fatto questo dovremo semplicemente ripeterlo più volte ed ogni completamento ci darà una percentuale e superata una certa soglia dovremo combattere anche alcuni miniboss fino ad arrivare al 100%. Fatto il 100% sarà il momento di affrontare due campioni che concluderanno infine l'evento. Sembra non esserci almeno per il momento una versione eroica però c'è il tempo. Se non caricate tutto entro il tempo limite dalla cassa finale riceverete soltanto quattro parti di mente bellica. Se lo completate invece ne riceverete sei più una seconda cassa che andrà aperta con un frammento di mente bellica cifrata che vi spiego tra poco. A questo punto ci chiederà di riconnettere Rasputin al bunker semplicemente andando in fondo al bunker, aprire la porta e uccidere praticamente tutti per finire questo step di impresa. Il prossimo sarà quello di fare un livello di reputazione proprio con il bunker e per farlo dovremo usare i chipset, la terza valuta di questa stagione. Quindi è il momento di fare un passo indietro e vediamo come si ottengono tutti questi nuovi oggetti e a cosa servono. Allora le parti di mente bellica si ottengono facendo le attività collegate ai bunker quindi il settore perduto leggendario che trovate sotto forma di avventura proprio accanto al bunker di Rasputin sulla zona morte europea o facendo l'evento pubblico quindi quello che vi ho spiegato ora oppure completando le taglie giornaliere e settimanali sempre del bunker. Queste parti servono per comprare gli upgrade del bunker che serviranno per agevolare diciamo così il lavoro. I potenziamenti oltre a questo servono anche eventualmente per comprare direttamente i chipset che ci servono invece per aumentare la reputazione però la possibilità di comprare direttamente i chipset ci verrà data solo dopo aver completato tutti quanti i potenziamenti del bunker quindi ci vorrà un pochino. I chipset invece si ottengono proprio completando questi potenziamenti ogni potenziamento ci darà in cambio dei chipset che poi appunto possiamo utilizzare per fare gli upgrade di reputazione gli upgrade di reputazione ci permettono infine di andare avanti con la quest e aumentare il nostro livello di integrazione e prendere gli altri bonus del bunker. Quindi come vedete è tutto collegato le taglie ci servono per prendere le parti di mente bellica le parti di mente bellica ci permettono di prendere i chipset i chipset ci serviranno per fare gli upgrade di reputazione. In tutto questo ci sono anche le parti cifrate che appunto vi ho detto prima che ci servono per aprire le casse le casse le troviamo alla fine dei settori per tutti i leggendari o alla fine dell'evento pubblico sempre se saremo in grado di portarlo al 100%. Queste parti cifrate si possono ottenere anche qui in due modi il primo è quello di completare le taglie giornaliere il secondo è quello di usare il potenziamento del bunker che ci dà la possibilità di ottenere un frammento cifrato quando completiamo attività di altri tipi come il crogiolo assalti o azzardo. Inoltre c'è anche la possibilità di riceverlo alla fine del settore perduto leggendario quindi l'obiettivo finale come vedete sarà quello di farmare farmare tanto per completare tutti i potenziamenti da una parte e prendere le taglie delle armi nuove dall'altra. Questo dunque è un breve video su come funziona questo sistema di questa nuova stagione in pratica non è altro che un obelisco molto simile a quello che abbiamo visto la scorsa season appunto da farmare con taglie e spero come sempre che il video vi sia stato utile io vi ringrazio di aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bene